il sito web omal si è rinnovato il nuovo designer responsive e nuovi tool permettono una navigazione semplice e fruibile da qualsiasi dispositivo per iniziare seleziona in alto a destra la lingua prescelta nella sezione azienda puoi visionare il video di presentazione aziendale scoprire la storia la mission la vision e i valori omal approfondire circa la strategia il management e il processo produttivo omal nella sezione applicazioni trovi settori di applicazione dei nostri prodotti in qualità puoi scoprire le politiche di omal in ambito qualità e scaricare le certificazioni aziendali in etica e sociale puoi scoprire le attività in ambito sociale e sostenibilità oltre che scaricare codice etico codice condotto a fornitori e il bilancio di sostenibilità scopri nella sezione diary tutte le novità dal mondo omal e le presenze alle fiere di settore nella sezione distributori puoi cercare il distributore più vicino a te filtrando per nazione o navigando la mappa interattiva la sezione contatti è divisa per richieste di informazioni commerciali nuovi fornitori lavora con noi cercare un prodotto nel nuovo sito omal è davvero semplice e intuitivo hai a disposizione diversi metodi per arrivare esattamente all'articolo desiderato primo metodo utilizzando il menu di navigazione principale dalla voce prodotti secondo metodo attraverso i label delle macro categorie presenti in header terzo metodo utilizzando i box presenti in home page o le relative sottocategorie quarto metodo puoi servirti del comodo tool di ricerca libera che trovi in qualsiasi pagina in alto a destra qui potrai cercare il tuo prodotto per nome articolo se già conosci il nome dell'articolo ad esempio puoi cercare magnum o vip oppure tramite keywords presenti nel titolo prodotto come ad esempio wafer o acciaio inox puoi cercare inoltre per codice articolo in questo caso il sito rimanda esattamente alla pagina dell'articolo cercato oppure tramite porzioni di codice articolo di minimo 4 caratteri in questo caso la ricerca restituisce tutti gli articoli che hanno quella porzione di codice una volta trovato l'articolo di tuo interesse approderai alla pagina prodotto qui puoi trovare tutti i dettagli e le specifiche di quel prodotto i benefits, le caratteristiche, le dimensioni, i materiali e molto altro nella voce documenti puoi scaricare i certificati le istruzioni e i manuali del prodotto in oggetto tramite i label posizionati a lato del render puoi inoltre scaricare il catalogo pdf del prodotto che stai osservando stampare la pagina relativa a quell'articolo richiedere informazioni configurare il prodotto secondo le tue esigenze cliccando su questo label il sito scorre nella sezione apposita a fondo pagina qui impostando i vari parametri di configurazione otterrà il prodotto finito settati i parametri richiesti clicca su cerca articolo visualizzerai il codice dell'articolo appena configurato e altri dettagli come in questo caso codice attuatore codice valvola misure peso e kit di montaggio puoi confrontare tutte le misure disponibili per la configurazione scelta e approfondire circa l'attuatore selezionato cliccando sul relativo label che riporta alla pagina attuatore inoltre puoi chiedere informazioni e visualizzare il 3d della configurazione selezionata effettuando il login accederai al sito come utente avanzato e sbloccherai ulteriori funzionalità clicca sulla voce login oppure in qualsiasi pagina del sito sull'icona apposita in alto a destra se non sei in possesso delle credenziali puoi richiederle cliccando su richiedi credenziali qualora avessi dimenticato le tue credenziali puoi recuperarle cliccando su recupera password una volta loggato e ottenuti privilegi come utente avanzato da parte di omal puoi visualizzare il prezzo di tutti gli articoli visualizzare ed inviare il 3d dell'articolo selezionato alla propria casella email per poter effettuare il download sul proprio device effettuando il login si attiverà inoltre l'accesso all'area riservata clicca sull'apposito label in header nell'area riservata puoi scaricare cataloghi listini prezzi previo consenso da parte di omal e product portfolio oltre che modificare la tua password per i prodotti magnum e torre è stato implementato il tool di decodifica raggiungibile cliccando sul label nella colonna di sinistra in qualsiasi pagina di prodotto oppure tramite il label decodifica codice presente in tutti i prodotti magnum e torre inserisci il codice dell'articolo magnum o torre che vuoi decodificare durante l'inserimento il tool mostra progressivamente l'elemento corrispondente ad ogni sezione di codice inserito e 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